oh ciao a tutti ragazzi buonasera come va siamo a cavezzo di modena prima volta qua in questa location ragazzi siamo a questo ristorante che si chiama ponte moto ristorante pizzeria prima volta qua dei singoli il tour siamo a centinaia qua è sempre così ragazzi super ok tutto ok faremo una serata super super vai pronti tutti voilà hola ci siamo prego sì grazie partiamo buonasera signora le assistenti stasera non hanno avuto il tempo di cambiarsi lavoriamo troppo lavoriamo troppo brava ben detto ma anch'io non mi sono cambiata ma chi è bello bello comunque buonasera tutti buonasera un applauso fatemi sentire un applauso vai grandi ragazzi siete fantastici grazie di essere qua così numerosi aspetta che accendo un po di più di volume bene bene prima volta qua in questa location ragazzi bene bene io mi chiamo celestino per chi non lo sapesse o cos'è la musica troppo musica troppo musica mi chiamo celestino sono circa 15 anni che anche sono più di 15 anni 15 anni è una settimana precisamente che vado in giro per l'emilia romagna e l'italia a portare le note di questo format noi siamo qua per mangiare fra poco fra pochi minuti il capo della invia ti diamo capo alessandro vero cinque minuti vuoi portare l'antipasto quindi attiva tutte le tue